volevo chiedere una cosa a lele adani tutto bene stai bene le prendi le goccine per i tranquillanti no dai io non so voi se avete visto avete avuto l'onore di seguire le telecronache di lele adani segna richardson gollasso barbaro ieri fa un gol leo messi cazzo raga sembrava che avesse vinto il mondiale da solo lo ha urlato di tutto e di più le lacrime dell'argentina minchia figa il migliore al mondo a rosario a rosario nel cuore cazzo io lì così a me mi fa morire da lì da lele adani le sue telecroniche mi fanno pisciare sotto quando segna qualcuno perché è un fenomeno però io non so se arrivi a fine mondiale così cioè io ho paura per te per la tua salute secondo me rischi grosso rischi che a fine mondiale ti scoppia il qua qua l'acquone lele sono preoccupato per la tua incolumità però raga adesso parte gli scherzi cento volte lo spirito la gioia del gol la gioia di vivere il calcio anche la pazzia il genio regolatezza di lele adani a fare telecronache rispetto a certi morti eh questo ve lo dico almeno lui quando segna qualcuno si emoziona ti fa anche vivere le emozioni lele tu sei fuori di testa raga buona domenica a tutti iscrivetevi al canale e se anche voi vi piace lele adani tanti pollici in su dopo tante volte dice di quelle minchiate però incredibili sempre forza milan perché anche la domenica il milan noi ce l'abbiamo nel cuore eccoci